Ciao, io sono Simone e sono al primo anno del corso di laurea di Scienze dell'Organizzazione. Ciao, sono Martina, ho 30 anni, sono iscritta al terzo anno di Scienze dell'Organizzazione. Ciao, sono Francesca, ho 21 anni e frequento il terzo anno di Scienze dell'Organizzazione. Sono appassionato del mondo HR, delle risorse umane e quindi ho trovato in questo corso il percorso migliore per poter entrare poi in quel tipo di settore. Tutta la nostra vita avviene all'interno delle organizzazioni e comprendere il funzionamento delle organizzazioni e i processi organizzativi è un elemento chiave per comprendere il più ampio funzionamento della società, nonché concorrere al suo cambiamento. Da un quadro per tutto quello che serve in azienda per lavorare in una grossa multinazionale o in una piccola impresa. Con il tempo, anche attraverso la conoscenza di esperti di quest'ambito e la possibilità di mettermi in gioco in prima persona attraverso lo stage, ho capito quale sarebbe stato il percorso che avrei voluto intraprendere, anche grazie alla personalizzazione del piano di studi che mi ha permesso di mettere in gioco i miei interessi. Grazie alla sua interdisciplinarità ho potuto scoprire quale fosse la strada più giusta per me nel corso dei tre anni e soprattutto al terzo anno grazie allo svolgimento di uno stage. Lo stage dà l'opportunità di provare a mettere in pratica ciò che gli studenti vendono in aula, anche in termini di soft skills. L'internazionalizzazione è un aspetto importante per Scienze dell'organizzazione e tale importanza si esplicita in una serie di attività e di servizi messi a disposizione degli studenti. Da attività di sostegno e supporto per gli studenti per far sì che partecipino a vari programmi di internazionalizzazione, in primis il programma Erasmus che è sicuramente il programma principale a livello europeo, all'erogazione di insegnamenti in lingua inglese in modo tale che gli studenti possano utilizzare quotidianamente una lingua straniera. L'organizzazione si può studiare in modi e da prospettive assai diverse fra loro. SCORE ha fra i suoi obiettivi quello di fornire strumenti analitici per comprendere meglio il funzionamento delle organizzazioni. L'architettura della proposta formativa si articola attorno alcuni nuclei disciplinari privilegiati, in particolare la sociologia, l'economia e il diritto. A ciò si aggiungono naturalmente altre discipline di approfondimento come per esempio la valutazione delle politiche pubbliche. Le indagini sugli esiti occupazionali ci raccontano che i laureati in scienze dell'organizzazione trovano lavoro soprattutto nelle aree delle risorse umane, del project management, della formazione, della pianificazione organizzativa all'interno di imprese private, enti pubblici e organizzazione del terzo settore. Se mi dovessero chiedere cosa farei tornando indietro risponderei assolutamente un'altra volta il corso di scienze d'organizzazione. Tornassi indietro lo riceverei. Bocca al lupo a tutti!